Dato che vi volete così bene, sapete che cosa vi dico? Siete arrivati da separati, ve ne andate via insieme, fuori dallo studio. Sarebbero state una coppia perfetta. Arrivederci. Resista, l'inizio è che mi è. Resista. Resista. Allora. A galanteria così, falsa, se tu fossi un vero galantuomo non mi avresti riempito di insulti da due mesi a questa parte. Mamma mia, cambia copione e bella, è una sceneggiatura, sembra di vedere le repliche, è una continua replica dal primo giorno. Mi sembra di stare a vedere le repliche, di vivere ogni giorno. Facciamo così, Massimiliano, Massimiliano, vieni qua. Vi accompagno io a passo marziale in modo che uno non vada prima dell'altro, ok? Avanti, avanti, marchi. Non ce la faccio, lasciate. Non voglio portarmi con lui, non ci voglio più andare. Mamma che pazienza. Non ce la faccio, lasciate. Allora. Vieni qua. Grazie.